Ciao a tutti, sono Federico del ristorante Taco di Bra, ci troviamo in Corso Garibaldi numero 7. Siamo aperti tutte le sere, 7 su 7, a partire dalle 18, sabato e domenica anche a pranzo. Consegniamo direttamente a casa vostra in tutta la provincia di Cuneo, oppure se volete venirlo a ritirare voi siamo anche a disposizione. I nostri piatti li trovate su Tutacà e i nostri canali social.